Buongiorno, 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 allora dal mosaico lassù di Aquilè che le storie di Ione, sono gli agnolus che peschino il pesto al mare, sapete che il Signore l'ha detto che non si farà pescatori di Oms, allora c'è un agnolus che peschino con l'am, che l'altro con la nas, che l'altro con la rete, insomma, volevo dire che hanno fatto il mosaico, che questa evangelizzazione bisogna chiapare i popoli, gli sculturisti, ognuno di queste forme che va bene per loro, in pratica, rispietanze che sono, che anzit, Aquilè ha baruffato con Salzburg, in Austria, perché loro volevano che i Slavs passino la loro cultura e la loro lingua per diventare cristiani. Di modo che noi ho vincere un'eredità dell'Eglise di Aquilè che è di rispietà la cultura e la lingua di Chiatris, ma tal stesso tempo che è di rispietà e conservare la nostra lingua, la nostra cultura, il nostro mood di viodi, il nostro chiantà, il nostro crodi. Buona giornata e buona vita. Grazie